Salve a tutti e ben ritrovati, qui è Michele di MiammyCity e in questo quinto episodio della rubrica Il bene nel male avrò il grandissimo piacere di intervistare il mio caro fratellino Gabriele. Vedrete, la sua opinione sarà molto molto interessante riguardo al bene nel male. So che ci avete fatto caso, infatti questa è la nuova sorpresina targata MiammyCity. Dopo tutto questo tempo, dopo mesi e mesi passati a crescere ma soprattutto divertirci Io e Cristina abbiamo avuto questa idea. Per ora ne sono disponibili un paio ma vedrete che molto presto saranno molto di più E se le volete contattatemi pure in privato. MiammyCity non è solo Urbania ma è anche tutti, la gente, me, noi In generale è tutto ciò che è bello, è tutto ciò che è amore. Ecco a voi. Ci vediamo presto. Ciao a tutti, sono Gabriele, come vi ha suggerito mio fratello Michele. Ho 25 anni, studio a Urbino, alla facoltà di scienze motorie E spero di laurearmi a breve, quindi a giugno, sono alla fine del percorso, speriamo Niente, sono appassionato di due cose in particolari che sono il movimento Io sono un ballerino di breakdance chiamato B-Boy E sono appassionato anche della musica. Grazie a tutti i miei amici che sono tutti musicisti Ognuno suona anche uno strumento diverso, quindi ho avuto modo di esplorare a pieno questo mondo che mi ha coinvolto tantissimo Dal pianoforte, alla chitarra, percussioni. Io sono un ragazzo molto curioso, quindi mi piace sperimentare un po' di tutto Non mi specializzo in qualcosa, ma sono un po' della filosofia di tutto un po' Ecco, questo L'amore, bella domanda Allora, l'amore è un sentimento ovviamente bello Bello anche se molto difficile da spiegare Credo sia molto soggettiva come cosa In quanto io sono una persona che Fa molta difficoltà a dare A dare e a sbloccarsi sotto certi punti di vista Però Una volta che mi apro Do tutto me stesso Ed è una cosa molto molto Bella Ecco, quindi sono un po' inizialmente una persona distaccata Però quando riesco a dare è una sensazione molto molto bella E l'amore nel complesso è una sfera emotiva che ti prende Io fino ad ora non posso dire di averla vissuta pieno Però Prima o poi capiterà la persona giusta che mi farà sentire totalmente coinvolto Leggero, libero, dispensierato Al di fuori dell'amore L'amore per una persona Il fidanzamento Eccetera eccetera Parliamo anche di amore per la propria passione L'amore per gli amici Per la famiglia Sono tutti diversi tipi di amore Tutti importantissimi Ognuno ha il suo valore La sua importanza E io in questo periodo di pandemia in particolare Ho riscoperto tanto il breaking Ovvero la comunemente chiamata la breakdance Perché mi ha aiutato a superare un po' questi momenti Che data la pandemia e il lockdown Ci fanno sentire un po' un po' soli Siamo chiusi in casa Io per fortuna mi sono creato il mio spazio personale Dove la possibilità di dare libero sfogo A queste repressioni che stiamo vivendo Seguo la musica Che è una mia seconda passione Quindi la danza Va mano a mano con la musica Anche questo è un altro bel accoppiamento amoroso E io li seguo Mi lascio andare E sto bene ecco Danza più musica Uguale love Allora Il bene nel male In un periodo così difficile Credo sia importante parlare di Di questo bene Che va assolutamente visto In questo male che stiamo vivendo da circa un anno Per me Per quanto riguarda la mia esperienza Come ho già detto prima Ballare è stato il mio bene Il mio bene in questo anno di male E continuerà ad esserlo Sperando che il male in realtà finisca presto Però per me Per la mia esperienza Il bene è stato anche Poter aiutare gli altri Mi ritengo una persona abbastanza Empatica E quando sento che una persona È in difficoltà Soprattutto in questi periodi È facile cadere Avere dei cali emotivi Che siano amorosi Che siano sociali Di qualsiasi genere Mi piace molto dare supporto alle persone E ascoltarle Per chi mi conosce Sa che non sono un gran chiacchierone Però ho delle buone orecchie Ecco Mi piace ascoltare Mi piace aiutare E dare consigli Tirare su di morale Questo è un po' Il mio bene Mi piace Soprattutto darlo Quindi alziamo un po' Le cipare il bene Direi di sì Grazie a tutti A presto